Buonasera e benvenuti alla seconda edizione di J News per il sostituto procuratore di Reggio Calabria Nicola Gratteri oggi presente a Sant'Omero Abruzzo e Marche non sono esenti da infiltrazioni di criminalità mafiose ma vediamo il servizio per la quarta edizione di mondo d'autori qui a Sant'Omero ospite d'eccezione il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Nicola Gratteri oggi si parlerà di economia criminale sì si parla di economia criminale sperando di riuscire a illustrare alla gente quali sono i pericoli del controllo economico del controllo delle mafie nell'economia le mafie immettono sul mercato denaro fresco proveniente dal traffico di cocaina per comprare immobili e questo momento di crisi economica è più facile per le mafie comprare e questi soldi che vengono immesse le mafie drogano il mercato impediscono agli imprenditori sani di emergere e impediscono la libera concorrenza e il libero mercato. Lei ha dichiarato poco recentemente che le Marche, la Regione Marche non esente dalla criminalità mafiosa per quanto riguarda l'Abruzzo? Ma guardi la storia giudiziaria ma soprattutto per ora quella investigativa ci hanno insegnato che dove c'è economia ci sono le mafie che cercano di comprare, di acquistare tutto ciò che è in vendita. Io non sono un esperto di questo territorio però immagino che le mafie cercheranno anche di comprare qui. Lei vive sotto scorta nel 1989, come è stato in questi anni vivere lottando contro la criminalità organizzata contro la mafia? Ma guardi io dal punto di vista fisico sono molto limitato nei miei movimenti, devo discutere anche andare a prendere un caffè in un bar con la scorta, io abito a 8 km dal mare e quest'anno non ho fatto un bagno, ci sono periodi in cui si rischia di più, periodi in cui ci si sente più sovraesposti o meno sovraesposti. Però le posso dire che dentro mi sento, sono un uomo molto libero perché ho cercato di impostare la mia vita senza legarmi a nessun centro di potere, io non faccio parte di nessuna corrente della magistratura, voto sempre per la persona che ritengo più onesta e più capace, non accetto incarichi, sono il consulente gratuito di tutti, chiunque vuole può chiamare sul mio cellulare e dico, trasmetto la mia esperienza o quello che io penso possa e debba essere cambiato nel sistema giudiziario italiano. Non ha mai avuto paura? Sì certo, la paura è un fatto umano, ci sono alte e basse nella vita però io non cambio una virgola di quelle che sono le mie idee perché per me vivere da vigliacco non ha senso, non mi interessa. Per quanto riguarda il futuro delle mafie, l'economia si sta spingendo, l'economia mafiosa verso sempre di più l'ambiente, i rifiuti, quindi il futuro sono le eco-mafie da combattere? Guardi, le mafie sono da combattere, sono presenti in tutti gli aspetti economici della società del mondo, cioè le mafie sono presenti dove c'è da gestire denaro e potere, quindi dove c'è da gestire denaro lì troverà le mafie e quindi le mafie vanno combattute a 360 gradi su tutti i fronti e in tutti i settori. La cosa importante e urgente è cambiare le regole del gioco, altrimenti continueremo a parlarci addosso. E la politica in tal senso cosa dovrebbe fare? La politica dovrebbe cambiare le regole, cambiare le regole del gioco, cambiare i codici in modo tale che non sia conveniente delinquere. Torniamo sulla discarica di Bussi, sulla emergenza ambientale. L'inquinamento nel sito industriale di Bussi ha superato anche di un milione di volte i limiti di legge. Ad affermarlo è il forum abruzzese dei movimenti per l'acqua che riporta alcuni dati riferiti al 2012 riguardante le falde acquifere dove sorge la mega discarica di rifiuti tossici. Il tetracloruro di carbonio ad esempio ha superato 666.607 volte i limiti di legge della falda. L'esacloretano 62.000 volte, il cloroformio 453.000 volte. Inoltre stando ai dati rilevati in soli sei giorni dal dicembre scorso, in particolare quando il pescarese fu colpito da un alluvione alla foce del fiume Pescara. Sono finite 1,45 tonnellate di esacloretano e nei capelli dei pescatori del capoluogo adriatico si sono rilevate alte concentrazioni di mercurio. Chi ha amministrato, affermano dal forum, chieda scusa per la sottovalutazione da irresponsabile pensare ora al danno di immagine. Vediamo cosa ne pensa in tutto ciò il governatore Gianni Chiodi che proprio oggi sulla discarica di bussi ha tenuto una conferenza stampa. Vediamo. Qui non c'è nessun inquinamento in questo momento perché le acque sono assolutamente potabili, ottime peraltro. Abbiamo tra l'altro la discarica Tremonti è stata messa in sicurezza quindi significa che non produce più inquinamento. È chiaro che va bonificata nei prossimi anni ma ci vorranno anni e risorse importanti. Però quello che è passato è un messaggio che 700.000 persone rischiano in questo momento di essere avvenenate dalle acque che non è così. E allora è una cosa che risale al passato, è una cosa che risale al 2007, è una cosa che nel 2008 è stata tamponata, è una questione quindi che non è attuale. E quindi quello che noi abbiamo voluto dire oggi è a tutta l'Italia che a bussi ci sono acque ottime e che soprattutto non si devono produrre danni né alla comunità locale né alle attività imprenditoriali, turistiche e locali rispetto ad una situazione che non è più attuale. Era l'abruzzo, era l'abruzzo della sanità, era l'abruzzo delle carrozzoni, era l'abruzzo delle discariche, dei rifiuti alla peggio insomma che è, e però oggi non è più così, quindi dobbiamo dirlo forte. Chiederete i danni? Io ho detto che quando c'è un'attività così esplosiva di disinformazione i cittadini e le comunità potrebbero chiedere i danni, sì, perché hanno creato dei danni incredibili anche alle attività imprenditoriali. Oggi mi dicevo un ragazzo che ha avuto una, se stessi a cerci un'attività turistica, che ha avuto moltissime disdette per una informazione scorretta, falsa, o meglio non falsa, è una informazione che non ha chiarito che questa era storia, erano fatti passati, che erano già stati rimediati e quindi non era più attuale. In questo senso il ragazzo, la sua attività imprenditoriale ha avuto dei danni, io se fossi lui chiederei i danni. Presidente, mi scusi, ma perché è uscita proprio adesso questa storia dopo tanti anni? Voglio dire, certo la domanda non deve essere fatta a lei, ma prima del 2007 cosa abbiamo bevuto? Questa sarebbe la domanda da chiedere a chi c'era prima, perché insomma adesso... non c'è ombra di dubbio, è proprio questa la domanda sulla quale ci sarebbe grande possibilità per chi vuole fare attività giornalistica seria di lavorare, però credo che oggi l'obiettivo fosse altro, ma se si approfondisse non sarebbe molto. E ha sentito il ministro? Ho sentito il ministro, non oggi, ho sentito il ministro dell'ambiente precedente, io ho fatto presidente della regione in questi cinque anni, io ho avuto quattro ministri dell'ambiente, quindi lei capisce bene che questo... E l'ultimo ministro che ho sentito, Orlando, sulla questione di bussi, mi sono lamentato dei ritardi in merito all'utilizzo dei 50 milioni di euro che erano stati stanziati dal governo del 2010, il governo della finanziaria del 2010, quindi del governo Berlusconi, e che ancora oggi non trovavano una via per essere utilizzati ai fini della reindustrializzazione, perché questo è tutto in mano al governo nazionale oggi, questo è un sito di interesse nazionale, quindi il governo si deve attivare. Mi ero lamentato con Orlando e adesso mi lamenterò con l'altro ministro. Ma l'ha invitato? Lo vuole invitare il nuovo ministro Galletti? Ma no, Galletti lo inviteremo senz'altro, perché sarà sempre opportuno che il governo si cimenti in maniera determinata sulle attività che devono riguardare la bonifica integrale, però la messa in sicurezza, quello che io voglio dire ai cittadini, è che il sito di bussi, che era altamente inquinato, è fortemente dannoso e in sicurezza, perché la messa in sicurezza è stata fatta dalla discarica a Tremonti, per cui l'inquinamento non produce danni. Adesso bisogna bonificare il sito, questo non c'è un bel dubbio, richiederà del tempo e l'acqua è buonissima. Da chiodi solo chiacchiere degne di un figurante, attacca così il capogruppo del PD in Regione, Camillo D'Alessandro, il presidente sulla vicenda. Bussi doveva rappresentare la priorità regionale, nazionale ed europea, ma serviva e serve una regione che sia guida. Va trattata, prosegue da Alessandro, con governo nazionale ed Europa, non solo la disponibilità delle risorse, ma la disponibilità di norme speciali per il risanamento ambientale e industriale dell'area. Le mai chieste chiodi in questi anni va pensato, organizzato e promosso, insiste da Alessandro, un progetto speciale sul fiume Pescara. Dove è stato chiodi in questi anni? Cosa ci ha fatto dei poteri regionali? Non se ne può più, conclude da Alessandro, del professionismo del nulla, incapace di iniziativa professionista nel lavarsi le mani. La protezione civile regionale ha diramato un avviso di criticità idrogeologica moderata nella provincia di Ascoli, dalle 12 di oggi alle 24 di domani, sabato 29 marzo. Viste le attuali condizioni di saturazione dei terreni, saranno possibili altri fenomeni di dissesto nelle zone maggiormente interessate dalle precipitazioni dei giorni scorsi. La criticità idrogeologica invece è stata ritenuta ordinaria. E ora la pagina della cronaca, sempre dalle marche. Prevista per domani appesero la sentenza del processo con rito abbreviato a carica di Luca Varani e degli albanesi Rubin Talaban e Alistin Presetai, accusati il primo di essere il mandante dell'agguato collacido alla ex Lucia Annibali il 16 aprile del 2013 ai secondi i sicari. Il PM Monica Garuli ha chiesto 20 anni di carcere per il 36enne avvocato pesarese. Il massimo consentito è considerato lo sconto di pena previsto per l'abbreviato e 18 anni per gli altri due. Lucia Annibali domani sarà presente in aula. E ancora da Ascoli resta in carcere il 22enne arrestato dai carabinieri della stazione di Acquasanta Terme a seguito di una rapina commessa a danno del padre per averlo ripetutamente minacciato chiedendogli in continuazione somme di denaro. Il giovane è stato fermato dai carabinieri a un posto di blocco sulla salaria all'altezza della frazione di Quinto Decimo. L'auto sulla quale viaggiava era stata rubata al padre ricorrendo alla forza e alle minacce. Quest'ultimo stufo delle violenze si è rivolto alle forze dell'ordine. Ed ora in Abruzzo a Nereto ancora cronaca chiedono denaro per una Ollus ma in realtà è una truffa. Denunciati tre napoletani particolari nel servizio. Chiedevano soldi spacciandosi per referenti di un'associazione di volontariato impegnata nella raccolta di fondi a beneficio di bambini affetti dall'eucemia. Il caso delle false Ollus e dei cittadini raggirati da persone senza scrupoli che fingono di lavorare per scopi umanitari arriva anche in Val Vibrata. La vicenda, veicolata a livello mediatico dalla trasmissione Le Iene di Italia 1 ora ritrova riscontri tangibili. I carabinieri della compagnia di Albadriatica infatti, in collaborazione con quelli della stazione di Nereto diretti dal luogotenente Amico Ventresca, hanno denunciato tre persone di origini napoletane di 34, 36 e 39 anni, uno dei tre residenti nel Chietino con l'accusa di truffa aggravata. I tre soggetti si erano spacciati per collaboratori di una Ollus con sede in Campania e avevano promosso una raccolta di fondi tra i residenti di Nereto. Agli ignari cittadini tre mostravano foto e testimonianze, anche articolate, di alcuni bambini affetti dalla leucemia e dunque, nel loro racconto, bisognosi di cure e di assistenza, di riflesso anche di soldi. Il girovagare dei tre napoletani però non è passato inosservato nemmeno ai carabinieri che hanno avviato, sulla scorta di alcune segnalazioni, delle opportune verifiche. Ebbene, dai controlli è emerso che la Ollus, reclamizzata dai tre amici, non era più operativa da oltre dieci anni. Per rendere credibile il tutto, inoltre, le persone denunciate rilasciavano i sottoscrittori della beneficenza, anche delle ricevute. I tre napoletani sono stati denunciati. Inoltre, i militari hanno anche sequestrato parte dei soldi raccolti, numerosi deplian fasulli e dei blocchetti con le ricevute da staccare. Rimaniamo in Abruzzo con tanti, qualche centinaia di euro, alcune bottiglie di vino, ma danni significativi al gazebo e alle vetrine d'ingresso mandate in frantumi. Solita tecnica per il solito furto ai danni di esercizi commerciali di Alba Adriatica. Nel mirino due bar, il Caffeina e lo Zuma, il primo sul lungomare Marconi e il secondo in Viale Mazzini. Due colpi della banda della spaccata nelle ultime 24 ore. Al bar Caffeina i malvimenti hanno dapprima forzato il gazebo in uso all'esercizio pubblico per poi mandare in frantumi la vetrina d'ingresso. All'interno del bar i ladri hanno arraffato il fondocassa contenuto nel registratore, qualche centinaia di euro e alcune bottiglie di alcolici. La scoperta è stata fatta dal titolare dell'attività questa mattina alla riapertura del bar. Stesso discorso al bar Zuma, dove i ladri hanno trafugato dei soldi in cassa e li cuori oltre ai danni effettuati sugli infissi. E torniamo nelle Marche. Ad Ascoli ruba un'auto e dopo l'arresto tenta il suicidio. Un giovane di 27 anni aveva rubato un'auto a Porta Maggiore per poi essere scoperto qualche ora più tardi dagli agenti della polizia. Arrestato è stato condotto presso la propria abitazione nel regime di arresti domiciliari, come concordato con il pubblico ministero della procura di Ascoli Piceno. Ma nella notte il giovane ha tentato il suicidio assumendo dei farmaci. Grazie al tempestivo intervento dei medici del pronto soccorso è stato ricoverato all'ospedale Mazzoni, dove è tuttora sotto osservazione. Adesso basta. Ho deciso di rendere pubblici nomi e cognomi di coloro che residenti e non affittano case alle prostitute a Porto San Deltidio. E' l'annuncio shock che il sindaco Nazareno Franchellucci ha postato sul suo profilo Facebook dopo l'ennesima sparatoria fra bande rivali che gestiscono la prostituzione a Porto San Deltidio. Se non avrò la possibilità di rendere pubblici tramite atti ufficiali, questi nomi lo farò tramite il social network Facebook. E dopo quasi 25 anni di contenzioso, la provincia di Teramo vince contro l'università d'annunzio che chiedeva agli enti locali già aderenti al Consorzio per la Libera Università una somma complessiva a titolo di contributi arretrati circa 10 milioni di euro, 2 milioni e mezzo di euro nei soli confronti della provincia di Teramo. Prima la Cassazione e poi la Corte d'Appello dell'Aquila chiudono una vicenda iniziata nel 1989 quando la d'annunzio citò la provincia di Teramo, nonché le province di Chieti e Pescara e di comuni di Teramo e Pescara per i contributi richiesti e non versati dalle amministrazioni locali aderenti al Consorzio per la Libera Università degli Studi Gabriele d'Annunzio, organismo costituitosi nel 1965 e poi soppresso nel 1982 con l'istituzione per effetto della legge 590 dell'omonima Università Statale. Ed ora passiamo alla politica. Il candidato presidente del centrosinistra alla Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, incalza il governatore uscente Gianni Chiodi in merito ai 5 anni di mandato regionale. Non ha conseguito risultati, dice, ma vediamo il servizio. Io mi sarei aspettato che all'impegno che ci ha messo avessero fatto come seguito anche i risultati. Sul piano dei risultati non ne rinvengo, credo che gli abruzzesi la pensano esattamente come me tant'è che ha avuto bisogno di allungare di 6 mesi la legislatura ma tutto ciò che si fa fuori tempo massimo costa di più e dura di meno. Sono stati 60 mesi, tutto sommato anche straordinari, poiché abbiamo avuto le luci del Governo nazionale e del Governo europeo. Dovevamo chiedere di più e meglio a tempo debito. Io quello che mi impegno a fare dal 26 di maggio è a recuperare il tempo perso e fare in modo che l'Abruzzo ricominci a correre sul fronte della vita delle imprese. Noi dobbiamo rendere più facile la vita delle imprese. In Abruzzo e soprattutto in provincia di Teramo poiché si è molto impoverita sul piano della natalità imprenditoriale. Dobbiamo rendere più facile il progetto di vita degli studenti, dei nostri ragazzi che si vogliono preparare, apprendere e studiare. E poi dobbiamo fare in modo che anche i comuni vengano aiutati nella erogazione dei loro servizi. Tutto questo però richiede fermezza, tenacia, decisionalità, non perdere tempo perché quello che si coglie in particolare in Abruzzo è come una caduta verticale di desiderio collettivo. Il desiderio individuale probabilmente c'è, ma quello riguarda un'altra sfera. Io voglio rimettere in campo il desiderio collettivo. Le sue inchieste giudiziarie, alcune ancora in corso? Ma io ho avuto 53 assoluzioni perché il fatto non sussiste. Chi ha deciso, chi ha operato provvedimenti, chi ha amministrato facendosi carico dei problemi può essere sottoposto ad accertamento di verità. Ma se non ci sono stati errori, poi la verità emerge come nel mio caso. Ancora politica ma ci spostiamo nelle marche. La lista officina, Offida lancia la sfida al sindaco uscente Valerio Luccerini. Vediamo. Ariani, per le elezioni di Offida, una nuova realtà, una lista civica, officina Offida. Quali sono le vostre aspettative e quali sono i vostri obiettivi? Il nostro obiettivo è quello di dare finalmente un'amministrazione condivisa a questa città. Un'amministrazione più semplice e trasparente dove la catena decisionale parte dal colloquio con le persone, dalla condivisione delle problematiche, dalla selezione delle necessità e delle priorità che poi diventano un programma e quindi poi dei fatti da attuare e delle decisioni da prendere. Sentendo, partendo dal cittadino, in una città di 5.200 abitanti non si può prescindere da questa situazione. Il nostro web è Piazza del Popolo, la piazza centrale di Offida, è il posto dove ci incontriamo, dove discutiamo. Vogliamo fare un lavoro di proposta, non un lavoro di critica. Tutti quelli che fanno sbagliano. Ci proponiamo di governare in modo diverso, non sappiamo se in modo migliore. Se i nostri concittadini ci daranno il consenso per governare, poi fra 5 anni faremo i conti di quello che abbiamo fatto. Le nostre proposte iniziali sono già partite, potete trovare tutte queste proposte nella nostra pagina Facebook Officina Offida. Lì abbiamo già sviluppato degli argomenti. Non abbiamo assolutamente preparato per i nostri concittadini una tavola apparecchiata. Non c'è nulla di predisposto, nulla di pronto. Tutto da condividere. Esigenze, programmi, candidature, scelta del candidato sindaco. Tutto da fare veramente insieme. La vostra candidatura presuppone un'alternativa all'amministrazione in questo momento Lucciarini. Ci sono però anche altre liste civiche, o comunque movimenti, il Movimento 5 Stelle, il Centro Destra, che si avvicineranno a queste elezioni. Qual è il vostro rapporto, quale potrebbe essere il vostro rapporto con queste forze? Allora, noi innanzitutto contestiamo all'amministrazione Lucciarini il metodo. Le scelte sono scelte che vanno fatte, sono scelte che derivano da posizioni culturali, da situazioni contingenti. Noi discutiamo del metodo. Quella condivisione che era stata messa nel programma di cinque anni fa non si è mai realizzata. Le scelte sono sempre scelte cadute dall'alto e imposte in qualche modo, senza ascoltare realmente la popolazione. Il nostro scopo, noi capiamo benissimo che combattere contro l'invincibile armada della sinistra offidana al potere nelle sue varie espressioni da ormai 50-60 anni, con due, tre, quattro liste di opposizione, significa consegnare la vittoria in mano a solidarietà e democrazia. Ne siamo perfettamente coscienti. Buone notizie per lo stabilimento della Roland di Acqua, viva Picena. La speranza arriva dall'Abruzzo e precisamente da Sant'Omero. La Roland potrebbe ripartire infatti grazie alla Pro e l'SPA una volta terminata l'attività dell'attuale gestione fissata per il 31 di marzo. Un ulteriore incontro si è tenuto giovedì a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Vi hanno partecipato tra gli altri l'assessore regionale Marco Lucchetti, i sindacati, il liquidatore della ditta giapponese Giuseppe Tranchini, il presidente della stessa Proel Fabrizio Sorbi. L'ipotesi vagliata è quella di acquistare la fabbrica e puntare sul ramo d'azienda della Fisarmonica Elettronica, una strada percorribile e ben vista dalla Roland ma che non restituirebbe il lavoro a tutti i 150 dipendenti. Per questo motivo la speranza è che la Proel abbia intenzioni più estese e staremo a vedere. Nasce un polo scolastico enogastronomico ad Ascoli Piceno che prenderà forma mediante l'unione dell'Istituto Agrario Ulpiani e la sezione di staccata scolana dell'Ipsar Buscemi e l'Istituto Alberghiero che ha sede a San Benedetto del Tronto. Il polo entrerà in funzione il prossimo anno scolastico. L'assessore provinciale Antonini ha subito spiegato che questa novità si inserisce in un quadro volto al ridimensionamento degli istituti superiori secondari ma che l'obiettivo è quello di dare impulso ad un polo capace come pochi di offrire un'opportunità occupazionale. Questo cambiamento rappresenta un grande impegno da parte della provincia sia in termini di strutture che per quanto concerne i servizi. Ha detto Celani annunciando che i lavori prossimi a terminare hanno portato ad individuare uno spazio all'interno dell'Hotel Marche oltre alle aule già presenti al terzo piano dello stesso edificio. Da anni ci spostiamo a San Benedetto del Tronto. Lo stadio Riviera delle Palme da impianto gioiello resta una grande incompiuta. Per questo si è insediata una commissione consigliare di inchiesta per comprendere i motivi della mancata conclusione dei lavori ad aprile. Il Consiglio Comunale e le conclusioni del Presidente della Commissione Pierluigi Tassotti. Ma vediamo il servizio di Pierpaolo Flammini e Arianna Cameli. Pierluigi Tassotti, Presidente della Commissione consigliare che si sta occupando della situazione del Riviera delle Palme. A che punto sono arrivate queste discussioni accompagnate anche da molte polemiche? Diciamo che siamo alla fase finale, nel senso che l'ultima commissione di venerdì scorso sono stati approvati i verbali dell'istituto dei precedenti. O perlomeno sono stati approvati tutti verbali. Otto, ne erano nove, otto all'unanimità. Uno, quello che riportava l'integrazione dell'ingegnere Cingiripini, non è stato votato all'unanimità perché i consigli di maggioranza hanno disconosciuto le integrazioni che l'ingegnere via email l'aveva mandato a integrazione del verbale che era stato redatto in prima istanza. Io non mi sono trovato d'accordo con la loro versione perché in ogni caso siamo partiti dall'anomalia che probabilmente se le sedute erano registrate come lo stesso ingegnere Cingiripini e noi della minoranza avevamo richiesto probabilmente non ci sarebbero stati questi problemi. Dopo tre mesi è chiaro che non è semplice ricordarsi tutte le parole e passaggi anche se concettualmente non è cambiato nulla, solo forse i toni un po' più aspri usati in alcune parole dall'ingegnere. Comunque queste sono affermazioni sue fatte di suo pugno quindi non vedo perché io non debba tenerle presenti oppure disconoscerle. Passata questa fase io adesso ho già iniziato a lavorare sulla relazione finale che probabilmente porterò in consiglio ad aprile, insomma presumibilmente ad aprile, il consiglio di aprile, adesso non so quanti consigli saranno in aprile. Secondo noi qualche passaggio poco chiaro o perlomeno non diciamo poco chiaro qualche passaggio che insomma non ha portato all'obiettivo da raggiungere c'è stato perché poi ecco io dico sempre per parlare alla città, alla gente normale che poi queste piccole cose magari non interessa però il concetto di base è stato snaturato cioè si parte tre anni fa per dare un sostentamento alla società sportiva e si arriva dopo tre anni a uno stadio non finito con 900 mila euro di debiti e con un privato che legittimamente comunque guadagna sopra senza che comunque sia parte della società. Quindi la San Mettese in questa situazione ci ha guadagnato zero. Rimaniamo nelle marche, andiamo a fermo, il presidente del sindacato provinciale ambulanti della Confcommercio, Orazio Capasso ha protocollato al comune di fermo la richiesta di revoca della fiera di primavera. Le motivazioni che hanno spinto il sindacato a chiedere la deroga sono legate alla mancanza di presupposti per la riuscita della fiera. Se si vuole rilanciare il commercio cittadino, afferma il presidente Capasso, solo e unicamente con l'organizzazione delle fiere si commette un grossolano errore. Mercati, mercatine, mercatini, mostre mercato a non finire rischiano di inflazionare il settore. Vendendo sempre meno, gli ambulanti saranno inevitabilmente costretti a selezionare le loro presenze a danno dei mercati che non funzionano. Così i comuni si ritroveranno con un mercato come quello del sabato di fermo dove non vuole andare più nessuno. E torniamo in Abruzzo. 31 giovani hanno firmato un contratto di assunzione con Enel nell'ambito del Regione. Si tratta di giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni, diplomati con indirizzo tecnico che entrano a far parte di Enel Distribuzione con contratto di apprendistato e che andranno a rafforzare il personale che gestisce la rete elettrica regionale. Per queste risorse l'azienda ha previsto un articolato percorso di formazione e affiancamento che tiene conto anche delle innovazioni tecnologiche finalizzato all'acquisizione delle competenze professionali adeguate al ruolo da svolgere, prima fra tutte quelle relative alla sicurezza sul lavoro. Con queste assunzioni, rileva l'azienda in una nota, prosegue il percorso di rinnovamento e crescita attivato in questi anni. Complessivamente sono oltre 600 i giovani assunti da Enel Distribuzione in tutta Italia in questa settimana. Domenica 30 marzo a Roseto, al Palazzo del Mare, sarà firmato un protocollo di intesa tra Avis Abruzzo e la comunità islamica abruzzese per conferire più incisività alla propaganda della cultura, della solidarietà e della donazione del sangue e dei suoi componenti. I dettagli del protocollo saranno illustrati dai partecipanti al convegno volontariato solidarietà-integrazione che inizierà alle 16 ed è realizzato grazie alla collaborazione del centro volontariato di Teramo e del comune di Roseto. Torniamo alla politica e andiamo a Tortoreto con la conclusione del mandato amministrativo al comune di Tortoreto. Si chiude anche l'esperienza della commissione consigliare di indagine sul caso Saccuti, l'ex funzionario infedele responsabile proprio dell'ufficio ragioneria. Rolando Papiri, presidente della commissione, si augura che la nuova amministrazione possa tenere in vita lo stesso organismo per completare le verifiche. Vediamo il servizio di Luca Zarroli. Papiri è il presidente della commissione speciale di inchiesta a comune di Tortoreto sulla vicenda Saccuti. Nelle scorse settimane è arrivato un pronunciamento importante da parte della Corte dei Conti che in parte avevate anche voi prefigurato questo scenario. Sì, diciamo che è la conferma definitiva della bontà di tutto il nostro operato ed è anche la certificazione che sicuramente molto brevemente nel prossimo anno la collettività si ritroverà in bilancio il recupero di questa somma quindi restituendo finalmente ai cittadini quello che loro era dovuto. Questa amministrazione è ormai alla fine, anche il lavoro della commissione tra virgolette andrà a esaurimento ma c'è ancora da verificare, analizzare qualcosa dal vostro punto di vista? Sì, anche se a questo punto diventa tutto molto più difficile. È chiaro che un minimo di lavoro ancora potrebbe essere fatto finendo magari il lavoro sui tributi e poi cercando anche come dire, diciamo che il dipendente era responsabile di un ampio settore molto vasto. Per un discorso di conoscenza la prossima legislatura se ci sarà la curiosità sicuramente questo lavoro si potrà continuare ma diciamo che è ben impostato e diciamo che il risultato più importante l'abbiamo portato a casa. È altrettanto vero dunque sotto questo punto di vista che la nuova amministrazione qualunque essa potrà comunque avvalersi di una nuova commissione. Questo è un po' il suggerimento che lei dà. Ma sì, anche perché le commissioni sicuramente sono utili per andare a capire che cosa è successo. Quindi è uno strumento che ogni amministrazione ha per poter indagare su alcuni settori. Lì chiaramente se uno vorrà fino in fondo cercare di capire che cosa è accaduto potrà istituire una nuova commissione ed andare fino in fondo. Diciamo che però il grosso del lavoro fortunatamente è stato fatto. Rimaniamo sulla costa ma ci spostiamo ad Albadriatica. L'amministrazione comunale avvia lo sportello di prossimità che offrirà servizi gratuiti di attivazione e autonomia del mercato del lavoro di ascolto e di mediazione sociale ed informativi sul microcredito. Il servizio unico a livello regionale viene realizzato con il contributo del programma attuativo dei FAS 2007-2013 della regione Abruzzo. Intende rafforzare la rete territoriale di offerta di servizi sociali per i cittadini portatori di bisogni specifici legati all'occupazione, al reddito e alle relazioni sociali. E il Lions Club di Giulianova presieduto dal dottor Romano Rosati ha organizzato con la collaborazione della ASL di Teramo del centro regionale di fibrosi cistica di Ate diretto dal dottor Paolo Moretti afferente al reparto di pediatria del dottor Mario Di Pietro patrocinato da regione, provincia e comune di Giulianova un convegno dal titolo La fibrosi cistica, lo screening che non c'è. L'evento vedrà la presenza dei massimi esperti nazionali tra i quali i professori Vincenzo Carnovale di Napoli e Carlo Corbetta di Milano. Il convegno accreditato per le professioni mediche e sanitarie si terrà domani, sabato 29 marzo dalle ore 8.30 presso la sala del Museo d'Arte del Santuario Madonna dello Splendore a Giulianova Alta. Ci spostiamo a Torano, il sindaco Dino Pepe, l'assessore regionale Mauro Di Dalmazio, l'assessore provinciale Francesco Marconi e i docenti dell'Università dell'Aquila si confrontano a Torano Nuovo domani alle ore 10 nella sala polifunzionale bizzarra di Torano Nuovo, partendo dalla tesi di laurea conseguita presso l'Università di Scienze della formazione primaria della dottoressa Biancucci Scuola e Territorio, un modello di progettazione partecipata a Torano, l'incontro è l'occasione per colloquiare sul sistema scolastico e formativo del Terramano nella valorizzazione del territorio, promuovendo senso di appartenenza, identità e passione per lo sviluppo sostenibile del presente e del futuro della comunità, precisa la professoressa Agnese Carla Di Matteo del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università dell'Aquila. E torniamo nelle Marche, precisamente a San Benedetto del Tronto, una delegazione di donne aderenti all'associazione, se non ora quando, si sono recate al Parlamento Europeo di Strasburgo per presentare un'istanza a favore delle donne nel mondo del lavoro e del sociale. Vediamo il servizio di Serena Paoloni e Arianna Cameli. Le associazioni si non ora quando, Ascoli Piceno, Rivera del Conero e Ancona, insieme all'assessore delle pari opportunità del Comune di San Benedetto del Tronto, Palma del Zompo, hanno presentato al Parlamento Europeo delle istanze per l'anno 2014, che è l'anno della conciliazione tra donna e famiglia, quindi del lavoro della donna e della famiglia, con una speranza di un mondo più al femminile. Allora, noi siamo state convocate dietro a nostra richiesta e hanno subito accettato, siamo state convocate al Parlamento Europeo in occasione dell'anno della conciliazione fra il lavoro e la famiglia. Quindi in quest'anno si spera che vengano avviate politiche e direttive europee che possano far sì che migliorino appunto la condizione soprattutto della donna, perché non solo in Italia, ma ovunque però in Italia, purtroppo l'Italia si viene dando fanalino di coda, la donna è penalizzata nella conciliazione dei tempi. E quindi noi abbiamo portato delle istanze, abbiamo descritto il quadro a livello nazionale ma anche marchigiano, perché sappiamo che le marche hanno un tessuto lavorativo che si basa soprattutto sull'impresa, un'impresa che è fortemente in crisi, però è un'impresa piccola, media. Quindi nelle imprese piccole ci sono meno tutele e questa negazione delle tutele va a danno soprattutto delle donne, quindi licenziamenti, impossibilità di fare figli, quindi rinuncia o al lavoro o alla famiglia. Naturalmente vanno considerate tutte le tipologie di famiglia che sono, dalle mamme single alle famiglie allargate alla famiglia tradizionale e così via. Quindi noi abbiamo richiesto appunto flessibilità, più flessibilità dei tempi di lavoro, il lavoro informatizzato, tutela della gravidanza, tutela risalto alla parità di genere, quindi le problematiche, la famiglia, ci deve essere una divisione pari fra uomo e donna. Abbiamo focalizzato anche l'importanza dell'istruzione e della cultura, la donna deve avere anche questi tempi, tempi da dedicare a se stessa, perché solo con l'istruzione e la cultura si può dare avvio veramente a un'effettiva emancipazione. Naturalmente tutto questo passa fra politiche governative e degli enti locali che favoriscano e abbiamo chiesto anche un investimento proprio, dare fondi che concretamente e autenticamente, cioè fondi non perduti, ma fondi che concretamente e autenticamente possano aiutare appunto a migliorare le condizioni di vita, di vita che poi va alla vita lavorativa e alla vita familiare. Rimaniamo nelle Marche. La Proloco di Castignano ha organizzato la cerimonia di assegnazione del premio Il Coppo d'Oro 2014. L'evento si terrà domani alle ore 17 presso il Teatro Comunale. Il premio vuole essere un riconoscimento a personalità del mondo, della cultura, dell'arte, del pensiero, dell'imprenditoria che con il loro impegno hanno saputo dare lustro alle Marche negli ultimi anni. Nel passato sono stati premiati personaggi come Costantino Rozi, Vincenzo Muccioli e la Lega del Filo d'Oro. Il fenomeno sociale del turismo per ragioni sportive e le sue capacità di generare uno sviluppo duraturo nelle città che ospitano manifestazioni sportive mondiali saranno a centro di una tavola rotonda che si terrà martedì 1 aprile a partire dalle 11.30 nella sala delle lauree della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Teramo. E chiudiamo con lo sport, con uno sport minore come le bocce. Un grande gialluca, formicone, si aggiudicano due delegare più importanti del circuito nazionale. Il 43esimo pallino d'oro di San Buceto, il 31esimo Gran Premio della calzatura di Porto Sant'Elpidio. Il campione di notaresco e portacolori della Pinettina di Roma a San Buceto, bisse il successo ottenuto nel 2013 e porta a tre le vittorie in questa prestigiosa competizione. Oltre 200 gli atleti individualisti di categoria A1A provenienti da tutta Italia conferma dell'importanza della della manifestazione, numerose anche le autorità civili e sportive intervenute, tra cui il commissario tecnico della nazionale Dante D'Alessandro. Bene, con questo finisce il nostro telegiornale. Per oggi noi vi diamo appuntamento a domani con la prima edizione di G News alle ore 14 e con la seconda alle ore 19. Vi ricordiamo che questa edizione andrà in replica come sempre alle ore 22.30. A tutti un buon proseguimento di serata con la programmazione di Super J.